Si sono ritrovati oggi a mezzogiorno qui allo Sport Hotel Veronello hanno pranzato insieme i ragazzi di Mr. Corini dopo la giornata di rimposo concessa ieri. A seguire la conferenza stampa dei giocatori Frey e Sardo e poi via all'allenamento. E' iniziata così la settimana che porterà alla sfida di domenica a Torino contro la squadra di Ventura. Si è interrotta a quattro la striscia di vittorie consecutive compresa la Coppa Italia per il Chievo Verona. Ora i gialloblu guardano alla sfida di domenica a Torino per rilanciarsi in campionato. Non sarà della partita Bostian Cesar squalificato al pari del centrocampista del Torino Alexandre Farnerud. Mentre ci sono ben cinque giocatori diffidati per i gialloblu, Sestu, Pelissier, Radovanovic, Frey e Rigoni. Uno solo invece nelle file del Torino, Alessio Cerci. La seduta di oggi è iniziata sul campo numero due agli ordini del professor Sciuto. La squadra ha svolto lavori per migliorare la resistenza e i cambi di velocità. Sul campo numero uno invece il lavoro è proseguito con mister Corini su esercizi di tattica su campo ridotto. Ai nostri microfoni oggi ha parlato il difensore Nicolas Frey. Sono cinque le stagioni per lui in maglia gialloblu. Questa è la sesta e risentiamo le sue parole. Nicolas, dopo cinque stagioni al Chievo, se ti riguardi indietro al tuo primo anno a Verona, quali sono i tuoi ricordi calcistici ma anche extracalcistici? A livello calcistico ho tanti bellissimi ricordi perché ho conosciuto anche tanta gente che anche oggi, penso anche dopo il calcio, continuo a frequentare. Questa è la cosa prima che ricorderò. Poi ho fatto l'esordio contro il mio fratello, questa è stata l'esordio che sognavo. Poi delle belle soddisfazioni, la vittoria contro l'Inter, la vittoria a Roma l'anno scorso, tante a Roma contro la Lazio, tanti bellissimi ricordi. Spesso quest'anno sei impiegato a destra nel tuo ruolo naturale ma anche all'occorrenza sulla fascia sinistra. E' importante sentire la fiducia del mister per interpretare due ruoli comunque così diversi? Sì, no, quella è la cosa che è vera è che si sono impegnati in più ruoli. Anche a tre ho giocato centrale, a destra, a sinistra. Sì, ci vuole comunque che il mister ti trasmetta la sua fiducia per comunque far bene e spiegarti le cose. Poi in campo sono sempre stato abituato a giocare un po' dappertutto quindi non è un grossissimo problema adattarmi ma sicuramente con la fiducia del mister dai qualcosa in più. C'è una scena che quest'anno si ripete spesso. Frey pressa alto, recupera palle e rilancia l'azione. Vedi Sassuolo per il gol di Theroux o serve anche assist vincenti come quello a Pellissier contro l'Udinese. È un cambio tattico previsto questo qua oppure è proprio quest'anno che ti stai specializzando? No, beh, ti devo dire, quest'anno non so se magari con le esperienze o con il tempo però a cui si pare che fiduci in me stesso e di spingermi un po' più avanti. Perché diciamo sulla fase difensiva sono sempre stato attento e comunque sia fino adesso le mie caratteristiche sono sempre state comunque più difensive e le diagonali sono sempre state più difensive. Però sai, un giocatore comunque bisogna che migliora e per migliorare comunque ti guardi e dici cosa devo fare. E questa cosa qua che quest'anno sto cercando insieme al mister, allo staff di migliorare sempre di più. Fino adesso non sono deluso, ovvio che c'è ancora da lavorare ma ti dico è un cambio che mi piace. L'unica cosa è che per fare entrambe le fasi devi correre molto di più, quello è vero. Però, ripeto, per adesso sta andando bene, quindi sono contento. Domenica Torino, di fronte sicuramente un avversario tosto, Alessio Cerci, come si affronta e come si marca un giocatore così veloce, così tecnico? Non vuoi dire lasciare spazio, una volta che stoppa la palla devi essere addosso, lui devi dare il destro perché comunque è un sinistro naturale, è un grandissimo sinistro, l'ha fatto vedere. È un po' tra parentesi come Gabbiadini, sono giocatori che devi andare sull'esterno, male che vada crossano ma il destro non è il sinistro. Quindi sono giocatori che devi prevalere, diciamo, l'esterno, dipende da dove gioca perché ovviamente se gioca dalla mia parte a destra, diciamo, sarà magari un altro discorso perché se Rien fa l'1-2 se lo ritrova sul sinistro. Quindi comunque siamo a mandarlo sul fondo perché c'è un grandissimo tiro. Si sa, poi sul breve è fortissimo, le ho già affrontate ed è fortissimo. Quindi sarà un giocatore da tenere veramente sotto occhio. Anche per oggi è tutto, ci rivediamo alla prossima puntata con Veronello News.